Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi sono nel server di Arkham Network Perché ci poteva stare No in verità è che sui Glazierscraft sta laggando troppo oggi Quindi è indecente E poi c'è troppa gente lezza Quindi non va affatto bene Sono appunto qui Quindi pronto proprio a buttarmi Infatti mi butto Allora ovviamente io non sono lezzo Quindi il kit mi ricordo di prende Prenderlo e mancano già tipo 10 secondi Quindi cazzo ottimo Ok perfetto Allora ragazzi Comincio subito col dire che ultimamente Ho avuto un po' di problemi di computer E forse ce l'avrò anche in questo momento Mentre starò reccando Ma non ne sono sicuro Comunque a breve Non so se cambierò proprio certi pezzi O proprio lo sistema a modo Io smontando tutto insomma farò un casino Quindi se per un giorno non dovreste vedere i video sul canale Non preoccupatevi perché non mi è Cioè potrebbe essere Cioè oddio Non preoccupatevi Non è molto giusto da dire Perché in effetti Se non carico video O perché mi esploso il computer O semplicemente perché non ce l'ho fatta Rimetterla a modo Insomma Le opzioni potrebbero essere tante Comunque insomma Non preoccupatevi più di tanto Mettiamola così Allora Perché comunque in teoria Le cose le so fare Quindi dovrebbe andare bene Allora qui c'è un lezzino Che Oh mio dio E vabbè troppi troppi Me l'ho pi Me l'ho pi Me l'ho pi Ok sono indistruttibile Ora sono indistruttibile Moriteci tutti quanti Morici male Morici male Morici male Madonna Spero non l'abbia presa pure lui Perché se no Ok l'ha presa pure lui No Madonna no Che palle E mo Vado da lui Vabbè mi tocca fare così Vabbè non c'ho parole Ehm No dai non puoi fare in questo modo però eh Lezzo Oh ma qua c'è altra gente Che cazzo No 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 Allora ragazzi uno Si è preso Ma cos'è un team da 20 questo qui Ma che cazzo Non ci credo mai Ma ragazzi ma state vedendo Con i miei occhi tipo Cioè non so cosa cazzo Madonna no Quell'isola Quell'isola cazzo Uuu Per poco Mi devo shiftare Madonna sbaglio i pulsanti Ragazzi quello lì E un team da 20 mila Non ho mai visto nulla di simile Ve lo giuro Ma che cazzo sta succedendo in questo server Erano tipo in quattro E facevano tutti i team Comunque Intanto pantaloncini Vediamo Ok c'ho anche questo Che effettivamente è meglio Avevo la male OP Ma non ce l'ho fatta uscire lì Perché c'era un altro con la male OP Quindi E' un po' un problema Ehm E' dura E' dura Perché quello lì all'arco Ma cazzo Come mi ha preso Ora io faccio i trickshot No via E' più forte di me Quello lì con l'arco No che l'ho beccato L'ho ribeccato No è un bordello E' un bordello Allora Oh cazzo sto anche finendo le mele così No Io ci provo Io ci provo Dai cazzo No 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 E' messo meglio E' anche Oh Vabbè ma cazzo Un team da qua Da tre Madonna Non ci credo mai Vabbè sono morto io Oh Mi sono anche buttato di sotto Ma non ha però tutta la lobby contro di me Non si può vedere Ok Mappa figa stavolta E effettivamente penso che Quelli di prima Almeno il team Erano troppo lezzi Per vivere su questo pianeta Cioè veramente Ma si può vedere un team da Quante erano tre persone E forse ne ho ucciso pure uno Quindi Cioè io non ho parole Non ho parole Veramente Un team da quattro Era tipo qualcosa di simile Non si può vedere seriamente Cioè vergognatevi cazzo Allora intanto Se va dal c'è Uh Come c'è morto quello lì Ok non lo so Soprattutto c'è morto Dai cazzo Le mele le mele Non le ho Cioè ok le ho prese Sì perfetto Olle Le scarpettine in diamante Sì effettivamente c'è uno che sta arrivando Effettivamente non c'ho vita Quindi Non l'ho mangiata Ma che cazzo è Ok ora si E posso andare a spaccare il culo Uh Bella lì cazzo Bella lì Ok Praticamente L'ha spaccato il culo Quell'altro E in teoria dovrebbe prendere Di mira me Oddio Quello l'ho Se mi si butta Sono morto Potrei tipparmici in effetti Sembra anche messo bene però Vieni qui Vieni qui Ok l'ho avuto il vantaggio Perché l'ho piccato per primo Oddio Uh Per pochissimo No no Spero non mi tirino frecce Cazzo Ok una freccia ora Non mi uccide Almeno che tipo Non abbia il power A 20.000 Oh Ma è anche uno contro uno Questo qua Ok allora devo Rigenerarmi assolutamente Tutta la vita Vabbè tanto ne ho di mele E in teoria L'ultimo Ok l'ho visto Non so se lo mi ha visto però Mmm Ma che cazzo Ma che cazzo Ma l'avete visto Si è buttato Di sotto A caso Così Forse è la beccare l'acqua E poi risalire Però non era comunque Una buona tattica Quella lì Ah eh Sì Ho cominciato tipo a giocare A 60 fps Cioè voi Il video lo vedrete Comunque a 30 fps Perché Purtroppo Su come io Renderizzo Registro E carico Non posso permettermi Il 60 fps Perché Prima cosa Pesa troppo E poi siccome Io carico da telefono I video È un po' un problema Perché il telefono Li mette in un altro formato Cioè li rimette in 30 fps Quindi non ve li posso far vedere Però Ora gioco a 60 fps Quindi dovrebbe Cioè Vedo Tutto più fluido E questo ve lo posso assicurare Che vedo tutto più fluido E Quindi Le mie skill In teoria Dovrebbero aumentare In maniera proprio Vertiginosa Cioè ragazzi I termini Che si imparano Sul mio canale C'era un ragazzo Qualche giorno fa Un po' di giorni fa Che diceva Metano Nel tuo Nel tuo canale Non ci sono contenuti È vero Ma oggi Si usa la parola Vertiginosa No cosa cazzo Non mi ricordo Nemmeno cosa ho detto Però Mettete indietro il video E risentite la cazzo Perché oggi Impariamo l'italiano Madonna Le cazzate Proprio Comunque no In effetti è vero Manca un po' di contenuti Però Le cazzate non mancano Almeno quelle Intanto Il danno d'accaduta C'era E questa è la domanda Da fare Su Al centro C'è qualcuno Oh mio dio Ragazzi Mi sono spaventato C'è il danno d'accaduta Ma What the fuck Cioè io sono nell'isola E non me ne ero nemmeno accorto E c'è un tipo Che mi è sparato sopra Quindi Tipo Quello che diceva da dio Non era un bug Ma Cioè si è un bug Non è lo scioppino Vieni qui Vieni qui Vieni qui No ma lui Lui è tipo Uh l'ho ucciso L'ho ucciso Bella lì Cazzo però non c'ho mele Cioè questa cosa qui Effettivamente a me non mi era mai capitata Cioè Si mi era capitata Nel senso che io stavo sopra Scendevo C'era uno sotto Che aveva già preso la mia roba Però al contrario Non mi era mai capitato prima Cioè io sotto E lui sopra Che mi scende così Di cattiveria Allora intanto Qua c'è speed Che io Non lo butto mai via Quindi lo bevo un po' Uh Che bello Allora poi Vediamo Allora c'è l'arco Che è buono Questa merda qui La butto via Piglio da mangiare Perché effettivamente Non ho di meglio Per Per rifarmi la vita E se non sbaglio Ci dovrebbero essere altre ceste qua Non so dove però E la casa No è la casa senza tetto addirittura Ok forse qua sotto Se mi va bene Dai però Uh Cosa succede Allora E la madoma Che cazzo è Devo andare Ok alla fine c'era la ceste Ok però Ho dovuto andare un po' In profondità via Allora Mi mancano le enderpearl Quello È una lezzata Diciamo via Allora Ok anche le mele Buono buono Soprattutto Ma non ho dato un piccone Cosa c'è qua da scavare di buono Nulla C'è il ferro Ma sti cazzi Ce l'ho già la roba in ferro Cioè Non è che mi serva Allora Quindi devo spostarmi Da qualcuno Con i blocchi Dove potrei andare Cioè al centro C'è sempre l'opzione Per andare al centro Che non Non è proprio male Ok quello lì fu il diamante Devo andarli per forza di ero Perché Forse non glielo Cioè Non glielo spuosi Non glielo può spaccare Nessuno al culo Se non il grandissimo Metano Ovviamente Allora vediamo E vabbè Il blocco non si piazza Ok Ah meno male che c'ho speed È vero Ma dove cazzo è andato No 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 Tu non mi vuoi tirare le frecciate Ok c'erano ceste Cazzo Però sei lezzo eh Vieni qui Eh Ma beccato Ok uno si è tipato dietro di lui Uccidilo No no dai No Questo non è valido Che palle No Non si può sempre fare team contro di me Vieni qui Lezzino Vieni qui Che te lo spacco Perché sono più OP Dai non è vero Uh invece si Però c'era l'altro C'era l'altro ovviamente Perché devono sempre fare team contro di me Ah io veramente Non c'ho parole Tutti Lezzi Schifosi Sudici In questa partita Cioè Veramente è raro Trovare ormai un giocatore Che giochi da solo Cioè anche io gioco con Dadesi E schazzo Però io Io ci schazzo così di cattiveria Effettivamente E spesso ci dividiamo anche Ognuno va per la sua strada Non è che andiamo Tipo di violenza A spaccare Ok ogni tanto lo facciamo Ma è abbastanza rara come cosa Insomma spaccare il culo di violenza A qualcuno Perché insomma Abbiamo comunque una reputazione Da mantenere Più o meno Ci tengo a sottolineare Il più o meno Quindi insomma Ci dividiamo E spacchiamo un po' i culi A destra e a sinistra Ecco E invece no Però cosa fanno Ti fanno incontro così Tutti belli felici Insieme Schifosi proprio Schifosi Però Lasciando da parte Le lezzate Dei nemici Allora qua ho Rigenerazione Che non si butta Via si tiene Perché è buono Allora Lo metto qua Insieme all'Ender Pearl Ok dovrei Tiparmi tipo al centro E Perché ho preso l'anno Per così poco E vediamo Uh perfetto Rigenerazione Ok Questa Questa l'ho fatta bene Per lo meno Olle Perfetto Ora L'ideale sarebbe Trovare L'armatura In diamante O magari La mela OP Una buona alternativa Allora la mela OP La mangio Ma la mangio O non la mangio No non la mangio Per ora Oddio dovrei Mangiarla Però se tipo Mi capita Il team davanti Sono nella merda Quindi Evito per ora E apro tutte le chest Perché Oh 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 Vieni qui Vieni qui lezzino Vieni qui Cosa vuoi fare Oh ma ragazzi C'hai shit C'hai No forse Non so Poteva averli In effetti Oh oh Quello mi sa Che si vuole tippare No Si è buttato Ok Io Spesso Mi faccio Delle domande A cui sinceramente Non riesco a trovare Risposta Ma non perché C'è un motivo Così a caso Cioè Risposta umanamente Parlando Perché Fai una cosa simile Cioè Cosa c'è Pensi che abbia shit E allora La partita non ha senso Farla Ok a quel punto Lì potrei darti ragione Però Ok Laggiù si stanno scannando E io Ovviamente Ho la mela OP Quindi Cazzo però Vieni qui Ah vabbè Lui non lo sa Che c'ho la mela OP Oh povero Allora Qualcuno ce l'aveva La mela OP Nessuno ce l'aveva Oh Ma io ho visto L'omecora a qualche parte Non è possibile No non è possibile Eppure l'ho visto Ma che sia qua sotto Non ci credo Non può esserci Veramente Infatti Dov'è Io l'ho visto Il suo nome Ma magari me lo sono immaginato Non lo so Probabilmente Sono sotto effetto Di strane droghe Di cui nemmeno io So il nome Però Mi sembrava Dai cazzo No non può essere Boh non lo so Dire il vero Comunque Non so Potrei andare al centro Oddio Ma sì Ma sì da chi se ne frega Mi tippa al centro Tanto ce l'ho di Enderpearl E di mele dorate Quindi Non è un grosso problema E vediamo dove potrebbe essere Alla Lì non c'è Uh 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 E tu E tu non sai Che ti sto ammirando E ci muori male E metano vince Perché è giusto così È giusto vincerla in questo modo Cazzo Via Diciamo Che quando non c'erano i team Da 20.000 persone contro Riuscivo anche a fare qualche kill E magari anche a vincere la partita Come appunto Nell'ultima Comunque I team avversari Erano parecchio lezzi Perché Non si potevano buttare giù facilmente Ma spero che lo stesso Spero che lo stesso Sì ok Spero che Vi sia piaciuta lo stesso la partita Ed ciao a tutti